segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te arrivato al primo piano della scuola diaz trovai un massacro in atto una macelleria messicana c'erano quattro poliziotti due con la cintura bianca due in borghese che stavano infierendo su alcuni manifestanti inermi a terra fra loro una ragazza una ragazza con la testa rotta spaccata dentro una pozza di sangue fu allora che io gridai basta basta e cacciai i poliziotti che la stavano picchiando intorno alla ragazza per terra c'erano dei grumi che io pensai fossero di materia cerebrale a quel punto ordinai ai miei uomini che lasciassero la scuola e che facessero arrivare le ambulanze queste sono parole di un uomo delle forze dell'ordine per l'esattezza colui che nel 2001 al tempo dei fatti di genova era il vice questore aggiunto del primo reparto mobile quel giorno i poliziotti fecero irruzione nel complesso diaz di genova c'erano dentro 93 fra attivisti e giornalisti 82 furono colpiti feriti il 70 per cento finì in ospedale fra loro c'era per esempio e cito testualmente gli atti della corte d'appello di genova c'era lena colpita manganellata da più parti presa a calci sbattuta contro un muro e poi trascinata per i capelli per due rampe di scale fra loro c'era mike cowell un giornalista che fuori era stato aggredito dai poliziotti che l'avevano preso a calci dicono i verbali come fosse un pallone da calcio gli vengono spezzate otto costole i pezzi si infilano dentro il polmone gli perforano il polmone continuano a prenderlo a calci gli rompono 16 denti e in coma finisce ricoverato dicono i verbali che quando i poliziotti fecero irruzione e uno dei manifestanti gli disse gli chiese se avessero un mandato il poliziotto rispose qua non siamo dentro un telefilm adesso vi massacriamo quello che è più interessante è quello che accadde dopo quando nei giorni successivi ci venne detto che le forze dell'ordine avevano operato dentro la scuola diaz per due ragioni la prima per consentire il ripristino dell'ordine pubblico la seconda ragione per difendersi dai manifestanti che erano dei violenti e per fare questo vennero portate delle prove per esempio delle sbarre che stavano dentro quella scuola pronte a essere usate dai manifestanti violenti per strada delle bombe molotov e poi uno degli agenti mostrò il proprio giubbotto antiproiettile con un colpo netto sferrato da un fendente di coltello con cui egli sarebbe stato aggredito dentro la scuola peccato che l'inchiesta della magistratura abbia dimostrato che quelle sbarre stavano dentro la scuola già da prima per un cantiere la scuola era in parte in ristrutturazione quanto alle molotov ci sono delle immagini che attestano come due poliziotti avessero portato le molotov dentro la scuola prima del dell'ingresso appunto delle forze dell'ordine per poter poi dire che i manifestanti erano violenti e quanto al famoso giubbotto antiproiettile beh l'agente è stato condannato a tre anni e otto mesi poi ne ha fatti cinque per indulto per falso aggravato perché lui aveva inventato di essere stato colpito da un coltello quel taglio era stato inferto da lui stesso oppure con l'aiuto di un suo collega ciò che posso dirvi in conclusione è che la polizia di stato ha combinato a quella gente una punizione una multa per tutta questa falsità e per aver accusato qualcuno di averlo colpito quando non era vero per questa sceneggiata e la multa corrispondeva a un mese di stipendio ci furono varie polemiche perché si disse che era impensabile un mese di stipendio soltanto per la gravità di quello che era accaduto ma incredibilmente la pena è stata cambiata e alla fine gli è stato trattenuto un giorno di stipendio corrispondente alla cifra di 47 euro e 50 centesimi 47 euro e 50 centesimi 47 euro e 50 centesimi in nome del popolo italiano grazie